Il mercato di gennaio per colmare le lacune emerse nella sessione estiva, innesti in tutti i reparti, ma prima sarà necessario sfoltire. Le priorità centrocampo, come già detto dalle prime partite di campionato. Rosa male assortita per il credo del tecnico che nel cuore del reparto nevralgico ha bisogno di giocatori di gamba. Uno o ancora meglio due per supplire ad una carenza evidente. Si riapre per questo la pista Derisio, pupillo di Auteri, c'è la volontà di accontentare l'allenatore siciliano. E poi un centrale rapido, aggressivo e un esterno d'attacco. Se dovesse partire in zita, anche un laterale mancino. Fatta eccezione per Derisio, i volti nuovi saranno per lo più under dal 99 in giù, ma con qualche anno di esperienza in C, insomma, già rodati per la categoria. In uscita, oltre ai vari Galano, Marilungo, Valdifiori, frascatore in zita e bocci, c'è probabilmente anche Michael De Marchi, soltanto tre centri in campionato. Con otto gol invece Ferrari ha fatto la sua parte e forse anche di più, visto che ha conquistato la titolarità solo alla nona giornata. A mancare sono sostanzialmente le reti degli esterni. In totale gli avanti biancozzurri hanno realizzato 18 gol, 14 in meno, tanto per fare un paragone, dei cinque attaccanti dell'Ancona, che non sono affatto di grido. Il Pescara ha chiuso il 2021 con due pareggi e tre vittorie. Di certo sta meglio rispetto ad un mese fa. Pur non essendo competitivi per il primato, i biancozzurri hanno pagato Dazio a lungo periodo di magra. Appena due successi, sofferti contro Fermana e Olbia in 12 gare. Non solo, in cinque partite ha inciso e negativo il cambio di modulo, che ha tolto quelle certezze dimostrate sul campo nelle prime giornate della stagione. Dalla ripresa in poi, insomma, bisognerà ingranare le marce alte per arrivare ai play-off nella posizione migliore possibile. Di fatto una squadra ringiovanita, che può dare un senso compiuto a questo campionato.